Buon packaging a tutti! Oggi vi spieghiamo il perché utilizzare dei fogli di copertura. Lo scopo è quello di proteggere la sommità dei pallet e un solo dalla polvere in caso di stoccaggio all'interno dei magazzini oppure dall'acqua in caso di movimentazione esterna se ci fossero condizioni meteo avverse. BB Packaging ha inserito nella propria gamma prodotti dei fogli 140x160 in polietilene rigenerato al 100%. Gli scopi sono tre. Ecologico, abbiamo ridato nuova vita alla plastica. Economico, abbiamo abbattuto l'incidenza del costo del singolo foglio eliminando la Plastic Tice. Tecnico, la misura esatta per poter far cadere il foglio sui quattro lati dei classici palle 80x120 e 100x120. Questo è quello che facciamo con Passione tutti i giorni. Consulenza nel mondo del Packaging. Rimanete in ballo con noi! Grazie a tutti! Grazie a tutti!